ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono one sunny tube e vi do benvenuto in questo canale prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale la maggior parte di voi ragazzi guarda i video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 138 iscritti se volete che il sottoscritto faccia le live qua su youtube arriviamo a 150 iscritti cioè le live proprio quelle proprio in generale e inoltre parlo per tutti i tifosi milanisti juventini interisti napoletani bergamaschi laziali romanisti fiorentini bolognesi tifosi del torino tifosi del monza tifosi del genoa tifosi del lecce tifosi del verona chi ne ha più ne mette il canale è gratuito allora post partita germania scozia 5 a 1 e dir vero che partita che batosta che puro dominio tedesco perché ragazzi alla germania partita forte in questa partita inaugurale di euro 2024 è stata diciamo un dominio più che altro una un assolo tedesco ecco se vogliamo dirla tutta perché diciamo che i primi dieci minuti diciamo il decimo minuto per la precisione assist di tony cruz perfetto dai 102 passaggi che ha fatto una ne ha sbagliato è 101 a 102 dei passaggi riusciti di tony cruz in questo in questa partita inaugurale c'è numeri stravaganti ma non è la prima volta che succede perché tony cruz è un cecchino quando fai assist è uno sniper quindi veramente io sarei veramente sono veramente dispiaciuto perché veramente abbandone abbandonerà real madrid abbandonerà la nazionale ragazzi perdere uno come tony cruz all'età di 34 anni dopo dopo gli europei è veramente una grande perdita soprattutto in campo in campo real madrid e in campo tedesco e se diciamo il vero l'assist per l'assist di tony cruz per florian wirz ragazzi da manuale da manuale ma il secondo gol ma il secondo assist c'è ragazzi qua palla di gundogan per kaj averts kaj averts voleva tirare ma alla fine viene diciamo ostacolato assist per musiala musiala boom 2 0 azioni da manuale in pratica azioni azioni da scuola calcio poi parlando un po di var ragazzi diciamo che turpen ha arbitrato bene sì qualcosina ci stava e comunque arbitrato bene sì piano sufficienza diciamo che quel contatto su di gundogan del difensore centrale della scuola per gundogan a me era da piede a martello se vuoi quello non era piede a martello e non era espulsione non so cosa doveva essere e quindi kaj averts dal dischetto non sbaglia 30 quindi ingenuamente il difensore della scuola comunque non poteva farci nulla perché altrimenti se non faccio non non interveniva diciamo che sarebbe stato il risultato sarebbe stato uguale ecco e poi primo tempo concluso per tre reti a zero diciamo che la scuola non ha fatto granché anche perché è stato veramente un dominio naturalmente giochi in casa c'è tutto il pubblico per te e però ragazzi i tifosi scuola si sono sentiti però poi vabbè il quarto gol ragazzi parlando del secondo tempo mamma mia veramente incredibili incredibili fulcrug niklas fulcrug che giocatore è niklas fulcrug che giocatore è mamma mia ma questo qua 30 31 anni ha 31 anni ma ne dimostra 25 ne dimostra 23 ma che azione ha fatto stop di sinistro tiro col destro questo si chiama calcio ragazzi questo si chiama calcio mamma mia che fucilata che ha tirato quello lì che fucilata 4 a 0 poi poi vabbè lì il 4 a 1 della scozia comunque è stato un po sfortunato rudiger perché era involontare quella palla vabbè ci sta comunque però a differenza di quattro reti perché era il quinto gol il quinto gol comunque emre chan emre chan che non mi ricordo se era entrato al posto si era entrato al posto di tony cruz ragazzi emre chan anche lui non è da sottovalutare però a una certa età però comunque le sue doti calcistiche calcistiche le fa vedere ancora ecco e germania che ragazzi si porta in vantaggio cioè si porta in alto in classifica nel gruppo a germania 3 scozia germania tre punti scozia zero punti ora vediamo tra un po alle tre ungheria scott e ungheria svizzera faremo il peccato con la prepartita tra un po d'ore e non credo di aver di dover aggiungere qualcos'altro ecco perché diciamo una partita senso unico una partita comunque sulla carta si sapeva che sarebbe finita in questo modo ma non non ampio ecco io forse mi aspettavo un 3 a 0 un 2 a 0 cose così ma 5 a 1 rada meritatissimo meritatissimo vedremo cosa farà la nazionale tedesca germania più avanti quando affronterà nazioni veramente toste come inghilterra francia queste nazioni qua vediamo cosa come andrà anche perché io mi ricordo che nelle scorse amichevoli la germania comunque aveva battuto non aveva battuto ma l'ultima l'aveva pareggiata con con l'ucraina l'altra l'ha vinta contro la grecia quindi comunque si diciamo che siamo lì ecco mi sta ragazzi non lo conosco ci sono elementi che non conosco il calcio tedesco tipo time middle start non li conosco vediamo cosa faranno la parte sciolta perché sulle che conosco per il resto non credo di dover aggiungere altro perché comunque si ecco c'è siamo lì siamo lì tutti c'è nel senso la germania è quella nazione lì che finché non finisce la partita continua segnare 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 è fatta così e per adesso non altro da aggiungere iscrivete al canale attivando la campanellina in modo tale da restare aggiornati su ciò che pubblico in questo canale la maggior parte dei ragazzi guarda i video non si iscrive al canale non mette mi piace siamo a 138 iscritti se volete che io faccia le live qua su youtube arriviamo a 150 iscritti attivate naturalmente la campanellina parlo per tutti voi tifosi milanisti uventini interisti napoletani bergamaschi laziali romanisti fiorentini bolognesi chi ne ha più ne metta tanto il canale è gratuito a tutti ci vediamo dopo per il pre partita di ungheria svizzera gruppo a ciao per saluto per tutto ciao